Tragedia nel Regino, un motociclista di 29 anni è morto a seguito di un terribile incidente stradale che si è verificato a Gioiosa Ionica, lungo la strada provinciale che collega il centro della Locride con la marina di Gioiosa Ionica. Il ragazzo era alla guida di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con due automobili. Per quanto i conducenti delle vetture non hanno riportato conseguenze, il Centaure è deceduto pochi minuti dopo l'impatto. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica ed una squadra del distaccamento di Siderno dei Vigili del Fuoco.